Tutto pronto per l'attesa inaugurazione di Villa Argentina a Viareggio che si svolgerà ufficialmente domenica pomeriggio. L'amministrazione provinciale ha voluto anticipare la visita della struttura a stampa e addetti ai lavori e mentre le squadre di operai ultimavano le ultime rifiniture, il presidente della provincia Stefano Baccelli ed il presidente del Consiglio Provinciale Andrea Palestini hanno illustrato e ripercorso il lungo cammino del restauro e della ristrutturazione dell'edificio, acquistato dall'ente provinciale nel 2001 dopo tre anni di abbandono. È stato necessario un investimento di oltre 5 milioni di euro per far riacquistare l'antico splendore a questo gioiello del Liberty che rischiava di finire irrimediabilmente nell'incuria. Adesso, oltre alla parte architettonica realizzata da Galileo Chini con i freggi esterni in pannelli ceramici, sarà possibile ammirare nuovamente gli interni, con la grande sala da ballo, in cui campeggiano le tele che il pittore Giuseppe Biasi dipinse nel 1930 e che sono state restaurate dallo studio di Veronica Hartmann, che le ha conservate per 11 anni, monitorandole costantemente per garantirne la conservazione ottimale. Ho usato in questi giorni una metafora per Villa Argentina, di una bellissima donna che mi veniva raccontata come è così bella dai viaregini, ma molto altera nell'approccio con l'amministrazione provinciale perché questo cantiere maledetto non trovava mai conclusione. Devo dire che la bellezza è emersa in particolare negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, una cosa straordinaria che finalmente restituiamo con passione e anche con qualche commozione a Viareggio e a tutta la Versilia. Una bellezza che dovrà essere piena di contenuti, io mi auguro che a tutti gli effetti, grazie al sostegno e all'accompagnamento del comune di Viareggio e di tutti i comuni della Versilia, questo diventa a pieno titolo il Palazzo della Cultura e del Turismo di Viareggio e della Versilia. Dopo l'inaugurazione di domenica pomeriggio, la Villa ospiterà dal 6 dicembre la prima delle sue mostre, quella dedicata alla Prima Guerra Mondiale, in un percorso di pittura e fotografia con le opere di Lorenzo Viani e Guido Zeppini.